Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi di una pellicola che tutti quanti aspettavamo da tantissimo tempo e cioè Spider-Man No Way Home, l'ultimo capitolo della trilogia dell'MCU dedicata ad uno dei personaggi più iconici dell'universo Marvel e che in questo caso è stata una vera e propria svolta epocale poiché ha abbracciato, a mio modo di vedere, in maniera consona, anche gli altri film dedicati a Spider-Man. Ma ovviamente in questo video mi occuperò di Star Wars parlandovi di tutti gli easter egg dedicati alla galassia lontana lontana che sono contenuti all'interno di Spider-Man No Way Home. Ovviamente il video conterrà degli spoiler del film quindi state attenti nel caso non abbiate ancora visto il film. Andiamo a vedere tutti i bellissimi riferimenti dopo la sigla. Se seguite attivamente il Marvel Cinematic Universe saprete che all'interno di queste pellicole sono da sempre contenuti dei riferimenti e degli easter egg alla saga di Star Wars. E ovviamente non fanno eccezione né i film di Spider-Man e né soprattutto l'ultimo. In No Way Home infatti ci sono degli easter egg molto interessanti che si ricollegano anche all'emotività dei personaggi e in base a quest'ultimo punto di vista ce ne sono alcuni più visibili e altri molto più impercettibili. Partiamo dalle prime scene della pellicola in particolare nelle scene ambientate in casa di Peter e di Zia May. Nella stanza di Peter infatti durante la simpatica scena tra lui, MJ, Zia May ed Eppi possiamo intravedere un modellino di Tai che in realtà avevamo già visto nella pellicola precedente e cioè in Spider-Man Far From Home e che sia in questo caso sia e nell'altro caso poteva essere confuso con il Tai Advanced di Darth Vader. Ma in realtà poco dopo potremo dare uno sguardo più approfondito a questo modellino e scopriremo che invece è quello di un'altra nave molto iconica dell'universo star warsiano. Come vi dicevo infatti in una scena successiva nello specifico nel momento in cui Peter viene arrestato possiamo vedere un primo piano a questo modellino che scopriamo essere un bombardiere Tai una nave iconica che abbiamo visto per la prima volta in episodio 5 L'Impero Colpisce Ancora e che appare in tantissime altre opere di Star Wars soprattutto la serie animata Star Wars Rebels. La cosa interessante è che in questo primo piano possiamo vedere anche un action figure al fianco del bombardiere Tai. Si tratta nello specifico della action figure di un personaggio che nel corso degli anni è diventato molto popolare tra i fan e cioè Jack Porkins uno dei piloti della squadriglia rossa che in episodio 4 contribuì alla distruzione della morte nera. È molto interessante notare che sia la scelta della nave e sia la scelta dell'action figure sono davvero molto specifiche e ciò ci fa capire che nell'universo Marvel Peter Parker è un fan di Star Wars molto accanito. Ma questo è un qualcosa che sapevamo già considerando le altre due pellicole soprattutto Homecoming dalla quale derivano gli altri easter egg presenti anche in No Way Home. Andando avanti nella pellicola infatti ci troviamo a casa di Happy nello specifico nelle scene in cui Peter aspetta la lettera dell'MIT. In questo caso avviene un simpatico siparietto con Zia May che arriva ogni volta con una lettera diversa e ogni volta abbiamo l'inquadratura di Peter seduto al tavolo e poggiato sul tavolo c'è proprio il set Lego della morte nera set Lego che avevamo visto in primis in Spider-Man Homecoming dove è protagonista di un simpatico siparietto in cui purtroppo per i nostri cuori quel set viene distrutto quando Ned scopre la vera identità di Spider-Man e purtroppo il nostro cuore non viene risparmiato nemmeno in No Way Home perché anche in questa occasione proprio quando arriva la lettera dell'MIT il set Lego della morte nera fa di nuovo una brutta fine. In questa scena in realtà c'è un easter egg nell'easter egg perché il regista ha voluto ripercorrere le sorti della morte nera all'interno della trilogia originale di Star Wars. Infatti se Homecoming corrisponde ad Episodio 4 la distruzione della morte nera corrisponde a quella della distruzione della prima morte nera ad opera di Luke Skywalker. In Far From Home invece la morte nera a Lego non compare proprio come in Episodio 5 dove non vediamo la stazione da battaglia che poi fa la sua ricomparsa in Episodio 6 e quindi in Spider-Man No Way Home dove viene nuovamente distrutta proprio come nell'ultimo episodio della trilogia originale. Una reference nascosta davvero molto molto interessante. Come vi dicevo inizialmente gli easter egg di Star Wars però in questo film hanno anche un peso emotivo molto importante. E lo vediamo questa volta nel finale della pellicola dove Peter, dopo che tutti quanti avevano dimenticato la sua identità compresi il suo migliore amico Ned e la sua fidanzata MJ si ritira a vivere in un piccolo appartamento dove comincia diciamo così la sua nuova vita da Spider-Man e forse la classica vita da Spider-Man che tutti i fan aspettavano. E nell'occasione Peter ha portato con sé un oggetto molto particolare e cioè la minifigure di Palpatine proprio del set Lego della morte nera. Una minifigure che ha un significato molto particolare perché anche essa compare per la prima volta in Spider-Man Homecoming quando Ned propone a Peter di costruire insieme il set Lego della morte nera. Questa scena ha un significato emotivo molto forte perché non solo rievoca diciamo così dei primi ricordi con il suo migliore amico ma ci sottolinea soprattutto che Peter porterà sempre con sé il suo amico e che farà di tutto affinché sia lui e sia MJ possano recuperare la memoria o almeno tornare a far parte della sua vita. Perciò è come se questa minifigure fosse un'ancora un'ancora che ricorda a Peter la sua vita passata ma che fa anche appiglio per la sua vita futura in cui egli farà di tutto per recuperare il suo migliore amico ma soprattutto la sua fidanzata. E questo easter egg anche se minimo contribuisce a farci capire quanto sia cresciuto lo Spider-Man di Tom Holland rispetto alle altre due pellicole e soprattutto come sia pronto ad affrontare la vita dopo la forte perdita di Zia May e di tutte le persone a cui teneva. E qui dopo avervi elencato tutti gli easter egg di Star Wars presenti nella pellicola voglio fare una piccola digressione off topic su Spider-Man No Way Home un film di cui inizialmente avevo molta paura perché poteva davvero diventare una cozzaglia di comparsate è un qualcosa che puntasse solo ad un effetto nostalgia invece non è stato assolutamente così perché i vecchi personaggi non hanno avuto dei ritorni fini a se stessi ma hanno aiutato il protagonista a crescere tramite il dolore, tramite la rabbia, tramite la perdita finalmente lo Spider-Man di Tom Holland è riuscito a fare quel salto di qualità in più qualcosa che non era riuscito a dargli nemmeno la morte di Tony Stark egli infatti doveva perdere qualcosa di intimo nella propria vita e la scomparsa di Zia May per mano di Goblin con un ritorno spettacolare di Willem Dafoe nei panni del personaggio ha permesso che ciò avvenisse la cosa interessante è che una volta finito il film ti viene voglia di approfondire le vicende di questo Spider-Man di approfondire i suoi legami, ciò che accadrà quello che forse era un po' mancato sia in Homecoming e sia in Far From Home dove il personaggio non era mai stato messo alla prova come si deve in No Way Home c'è stato quindi un utilizzo molto interessante del fanservice che ormai non viene più considerato come un mero strumento ma come un vero e proprio espediente narrativo un espediente narrativo che ovviamente è stato attuato anche in Star Wars ma che ha avuto degli effetti contrastanti tra i fan quindi la mia speranza, magari proprio a partire da The Book of Boba Fett è quella che questo strumento possa essere utilizzato a dovere non solo per strizzare l'occhio ai fan tramite appunto l'effetto nostalgia ma anche in maniera tale da poter mettere delle solide basi che facciano crescere i personaggi e che facciano venir voglia ai fan di saperne di più su una determinata vicenda o su un determinato personaggio ditemi nei commenti cosa ne pensate degli easter egg di Star Wars presenti in Spider-Man No Way Home e se ne avete trovati altri e se questo video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite io vi saluto e che l'insolenza sia con voi